Anticipazioni Beautiful. Domenica, 6 dicembre 2020. Quinn esorta Wyatt a non fare scelte azzardate. Quando, ad un tratto, Eric le telefona per informarla dello stato di salute di Katie. Quest'ultima, intanto, appare disperata quando apprende del trapianto di reni. Brooke e Donna si offrono come donatrici, certe che almeno una delle due possa essere compatibile. Il dottore non lo esclude. Flo, intanto, scopre che Wyatt ha chiesto a Sally di diventare sua moglie ed accusa il colpo. La Spectra si scusa per essere stata esageratamente diretta. Ma non si sarebbero mai lasciati, lei e lo Spencer, se non fosse arrivata, una certa guastafeste, di punto in bianco, a Los Angeles. La Fulton, irritata, fa notare alla rivale, che la proposta di Wyatt è stata improvvisata. Non c'è ancora nessun anello, pertanto, si sente ancora libera, di riprendersi il maltotto. Sally controbatte, ma una telefonata, le interrompe. E, il giovane Spencer, che la informa che Katie, è in ospedale e che sta lottando, tra la vita e la morte. Sally, scioccata, informa Flo. La zia è in ospedale. Entrambe, non nascondono di essere, molto tese e preoccupate. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.